Un saluto a tutti da SnowKills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash Oggi siamo sul server taiwanese ragazzi perché lo hanno aggiornato e quindi possiamo andarci a vedere tutto ciò che ci spetta nel prossimo aggiornamento anche sul nostro server italiano Inizierei subito dal vedere una cosa molto curiosa, hanno aggiunto delle skin, lo avevo visto anche su Facebook Allora direi di andare a vedere un secondo queste nuove skin, sono le skin di Trixie, eccola qui Davvero carina, anche se sono sincero, mi piace più quella originale Però vediamo che qui ha 400, che da quello che ho letto sulla pagina Castle Clash News ed Help, 400 è attacco Quindi avranno 400 in più di attacco, mentre sappiamo invece che la skin di Cupido hanno 10.000 HP Quindi appunto questa è la prima skin, poi abbiamo la skin di Golem, anche qui dovrebbero essere 10.000 HP in più Poi abbiamo la skin di Barba Bianca ragazzi, wow davvero pazzesca, anche qui abbiamo 400 in più di attacco 10.000 HP come hai visto precedentemente per Mortanica, poi 10.000 punti ferita come hai visto per Cupido E questa bellissima skin che hanno voluto mettere con il cactus ragazzi, a me piace molto, mezzo cowboy di Minotauro E anche qui 400 attacco che si vanno a sommare, quindi una skin assolutamente molto molto utile da prendere su Minotauro E quindi queste erano le nuove skin Poi ci sono due importanti modifiche di gioco, una riguarda l'arena Dove cazzo stai? Vi minchia sta la merdosa arena del cazzo puzzolente, ecco Infatti in arena finalmente direi possiamo andare a vincere i rarissimi prestigi che sono diventati molto molto utili Dopo il precedente aggiornamento Possiamo notare che la differenza tra il primo e l'ultimo effettivamente è poco Come del resto lo è anche per quanto riguarda i Do Il motivo penso sia non voler dare ovviamente troppo vantaggio a chi è primo in classifica Anche perché poi avrebbe veramente prestigi fino a esplodere Un'altra cosa carina che ho notato prima è che qui praticamente ci sono anche Adesso possiamo selezionare dei frammenti di eroe e sono più scelte a quanto se ben ricordo di quelle che c'erano in precedenza E se così sembra tre sono scelte di pacchetti e tre sono scelte di frammenti eroe Non ho ben capito se ne possiamo scegliere quindi due In questo caso per esempio mi prendo il frammento moltanica Perfetto E in ultimo ragazzi per concludere c'è il nuovo eroe L'avrete visto prima che ho selezionato questa schermata Ed eccolo qui il nuovo eroe Un drago ovviamente come del resto lo è Moltanica, Artica, Elettrica Sono eroi che si possono prendere solo negli eventi speciali Quindi shoppando un sacco, un sacco, davvero un sacco di gemme e di soldi Potrete aggiudicarvi questo nuovo drago Che non ho ben capito che cosa fa Però questa è la sua skin Questo invece è verde acido Mi piace drasticamente più Questo qui tutto verde Sarà che a me piace il verde Questo non lo so, non tanto mi piace Però questo qua mi sembra molto figo In ogni caso staremo a vedere chi lo avrà Magari se mi capiterà di poterci fare un video Non lo so, comunque questo era l'ultimo L'ultima cosa diciamo rilevante Che c'era in questo aggiornamento Oltre a piccole migliorie e risolvimenti di bug vari Quindi se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile Lasciate un bel like e un commento Fatemi sapere che ne ve ne pensate E vi invito anche a guardarvi il precedente video Che ho fatto di Rainbow Six Siege Anche se mi seguite diciamo Per intrattenimento Vi invito anche a guardarvi questi video di Versia Castle Clash Perché potrebbero piacervi E con questo è tutto Io vi saluto e ci vediamo come sempre Nel prossimo video